Nel periodo di Natale i biglietti sono sempre molto alti, il costo dei biglietti è sempre molto alto per i calabresi che vengono in Calabria. Il Presidente della Regione Calabria Roberto Chiudo posta questo video sui social e in questo è in compagnia del Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma. Il tutto dopo un'interlocuzione avuta con una compagnia aerea e per dare una novità. Dal 18 dicembre al 13 gennaio ci sarà un volo in più da Roma per Reggio e da Reggio per Roma, questo consentirà ai calabresi di venire in Calabria pagando 100-110 Euro con questa piccola compagnia, oltre che con i voli di ITA se vogliono farlo. Un risultato che è stato possibile anche grazie al contributo che ha dato l'ENAC, che ha dato il Presidente dell'ENAC, quindi sono qui per ringraziarlo perché ha sempre dimostrato grande sensibilità per lo sviluppo degli aeroporti calabresi. Lui si occupa di tutti gli aeroporti d'Italia, è giusto che si occupi di tutti gli aeroporti ma io lo compulso continuamente perché si occupi un po' di più degli aeroporti della mia Regione. Il Presidente Occhiuto fa riferimento alla compagnia Sky Alps che garantirà quindi dal 19 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 un volo di andata e ritorno in più al giorno. Da Roma Fiumicino per Reggio Calabria e da Reggio Calabria per Roma Fiumicino.